I carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l'intensificazione di mirati servizi alla prevenzione e alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio, continuano ininterrottamente a porre attenzione all'attività di perlustrazione nei comuni dell'Irpinia, implementando in linea con le direttive tracciate dal prefetto Rossana Riflesso l'attività di controllo del territorio, sia nelle ore diurne che notturne, al fine di prevenire i reati e intervenire con tempestività efficace quando necessario. In questi giorni un massiccio servizio straordinario, visto in campo decine di pattuglie, sia in divisa che in borghese della compagnia di Montella, soprattutto tra Paternopoli e i comuni limitrofi. I numerosi posti di controllo, anche a doppio senso di marcia, hanno permesso di identificare gli occupanti di un centinaio di veicoli, molti dei quali, avendo odestato sospetto per il loro comportamento, sono stati sottoposti a immediata perquisizione. Il contesto operativo così indirizzato si è rivelato proficuo e mattinata una pattuglia della stazione di Paternopoli ha intercettato, ferma nei pressi di un'abitazione del paese, un'auto con a bordo tre sconosciuti, verosimilmente in procinto di consumare un furto. Alla vista della gazzella che si è avvicinata per il controllo, il conducente dell'auto sospetta, intuito il motivo di questa scomoda presenza, tra virgolette, è ripartito velocemente. Durante le immediate ricerche, gli operanti hanno incontrato una donna residente a poca distanza dal luogo di fuga, che poco prima aveva subito un furto in casa. Oltre a effettuare i rilievi tecnici sul posto, il personale del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Montella ha anche provveduto a restituire alla malcapitata una rilevante parte della repurtiva, rinvenuta lungo l'itinerario di fuga del veicolo sospetto, probabilmente persa o volutamente abbandonata durante l'inseguimento. Questi servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni tutta la provincia senza soluzione di continuità per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. Considerando la gravità dell'allarme furti in Irpinia, ecco i consigli dei carabinieri per un'estate più sicura. Vivere in una cassa tranquilla rappresenta il desiderio di tutti e i seguenti accorgimenti possono renderla maggiormente sicura. Installare una porta blindata con serratura antifurto e spioncino. Se si abita a piano terra in una cassa singola, la sicurezza oggi è possibile anche per le finestre, adottando vetri antisfondamento. In alternativa, è sempre valido il ricorso alle gratte, purché abbiano una robustezza che scoraggi i malviventi. Se si ha la possibilità, è opportuno adottare la casa di un idoneo sistema di antifurto elettronico collegato possibilmente al 112. Informazioni su come effettuare il collegamento gratuito si possono trovare sul sito www.carabinieri.it oppure recandosi presso qualsiasi stazione dei carabinieri. Assicurarsi, uscendo e rientrando, che la porta di casa e il portone del palazzo restino ben chiusi. Se si dispone di apertura a distanza e qualcuno suona, è meglio non aprire senza essere certi dell'identità di chi vuole entrare.